Bella raga, oggi è sabato, siamo primo sabato di dicembre, siamo al Pro Park di Genova tutta la mattina di pioggia, adesso finalmente è uscito il sole ci stiamo divertendo un po' qui nei tracciati umidi oggi siamo qua con un endorista col 125 è bello, è senza avviamento andiamo avanti prima di raffreddarci andiamo ok solo il davanti si ok ok grazie buongiorno ragazzi domenica 3 dicembre siamo al pro parco di genova anche oggi giornatina con amici bellissimi i tracciati tra l'altro del pro park con la pioggia di ieri e l'altro ieri oggi il terreno è rimasto sopra un po' vicinino un po' fattuoso ma sempre molto bello divertente a 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 ok solo lì che ti intrappi e pietro spinge a vai 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 bravo tanta roba a 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 o se no vai lì sopra e poi girvi sotto il tronco e fai quello lì bravo bravo bestia bravo a 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 bravo ottimo a mi piacerebbe andare a destra ma non la vedo proprio sto dritto lì ma secondo me non riesco a un bel buchetto va poi ci sono dei momenti che dici cazzo non tiene e invece aggrappa e degli altri dove ti sembra naturale che debba tenere che non tiene un cazzo a 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